Il Bologna è uno squadrone che tremare il mondo fa, scandiva la folla in delirio sugli spalti dello stadio, mentre la collana delle strepitose vittorie rosso-blu si allungava a dismisura. Ahimè, non ve nulla di più triste che ricordarsi dei giorni lieti nella sventura. L'undici petroniano che può freggiarsi di ben sei scudetti si sta battendo disperatamente per sfuggire alla retrocessione. I fedelissimi non sanno darsi pace dell'incomprensibile declino. Sentiamo cosa ne pensano alcuni autorevoli esponenti della stampa e della tifoseria locale. La squadra dovrà ritrovare in se stessa la forza di reagire e di risalire. Chiede solo di essere aiutata e non boicotata dai tifosi. Dovremo sostenere un finale di campionato durissimo. Spero però nel rinnovato spirito agonistico dei miei giocatori e nell'appassionato appoggio del pubblico. Forza Bologna! È questo il sincero incitamento degli sportivi di tutta Italia.